Eh vabbè. A quanta sono le tue? Non hanno apprezzato. No, no. Solo fa un no. Sì? Lo deve vendere nella padella. Sera le muschie. Siete, non ha probato ancora nulla. Ciao! Bella pescata. Bella pescatina di triglie. A posto? Tante belle triglie. Vado? Ah vabbè. Non ci vado proprio oggi eh. Cominciamo da questi come spusgaggioso. Eh questo pure è buono. Non bisogna disprezzare. Mi segua pure, guarda. Mentre li metto in frigidaia. Dopo la seguo mentre li pulisce. Dove tu dire quella per pappa? Non dimenticatela. No, per favore. Intanto io vado via stasera verso le sette e mezza. Voglio vedere la sua parola quanto vale. Sì, grazie. Perchè se le rimette nel freezer poi... Vedrò io a Ombroso. Due settimane che esco a mare, due belle pescate. Perchè qualcuno gli ha detto che era Ombroso. Sì, sì. Mio fratello, mi sembra lui l'Ombroso. Beh di qualcosa. Mi scusi, dove le ha pescate queste belle triglie? Lo si dice. Al mercato? A mare. Al mercato di San Benedetto. Del tronto. Togli la manina caro. Togli la manina più grande della grande triglia che hai preso. Questo filmato a chi lo dedica? A me stessa. Al mercato di San Benedetto. Che sa fare il suo colore? Che sa? Simona, smettila. Lei cosa ne pensa di questa pescata? Adesso sta incominciando ad esagerare però. Tre giorni, venti chili di triglie. E tutte belle e grandi. Dodo, per volta lo vuoi. Manco anch'io. La vuoi per volta. Eccomi qui. La vuoi per volta. Buongiorno. Cosa ne pensa? Con 30.000 ci mangiamo 200.000 di triglie. Adesso basta però eh. 34.000. 34.000 è vero. Ma è tutto qui eh. Abbiamo investito bene. Tutto qui eh. Comunque mi scusi signor Rocca, adesso basta. State vuotando il mare delle triglie. Delle loro triglie. Simona. Scusi. Allora. Chi è che sa fare il sugo? Giusto per capire la dimensione eh. Così uno si rende... Lo sai che non si veda bene Fabri però? Dove esserci l'obiettivo sporco. No no. Cosa vedi? Per capire la dimensione eh. Vedo un bracino con una triglietta. Eh? Vedo un bracino con una triglietta. Partiamo da qui. Così è poco. Ecco. Scusi chi è che sa fare il sugo con le prime? Noi. Dodo. Graziano. La. Me le vende me le vende me le vende me le vende. No. Scia. 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 Scia le. Scia. 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 Mamma. Placca. Scia. 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 2 anche 5 per 5 25 posso staccare adesso abbiamo anche la roulotte da pulire è che non si dà la limpa, la sardina non sembra l'orso bianco di barcello fallo tu, io ti filmo